A partire dalle 21.30, gruppi di 20 con ingresso libero, un momento magico, l'apertura della videomostra a opera di 5 fotografi i quali hanno raccontato le 5 parole chiave di Collina Po, che sono collegate al tema del sacro, della natura, dell'architettura, dell'uomo e della bellezza. Pier Ilario Benedetto, Gerry Di Fonzo, Carlo Lenti, Claudio Molinaro e naturalmente Mauro Raffini vi racconteranno all'interno di questo percorso normalmente chiuso al pubblico quella che è stata la loro lettura non solo della bellezza ma anche di ciò che sta prima e dopo il concetto di bellezza. Dal sacro all'uomo il cerchio si chiuderà e naturalmente avrete l'occasione di poter anche visitare la cupola in straordinario. Tutto questo fino alle ore 23. Grazie. 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 Grazie.